E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi andremo a vedere come risolvere i problemi di risoluzione su Windows 10. Cosa intendo per questi problemi di risoluzione? Beh, quando andate ad aprire un programma sul vostro computer e a schermo lo visualizzate con delle scritte o delle schermate leggermente sfocate. O comunque che sembra ad una risoluzione inferiore rispetto a quella effettiva del vostro monitor. Questa cosa ho notato che succede soprattutto sui monitor dei pc portatili che sono relativamente più piccoli e in alta definizione. Bene, ma detto questo direi di iniziare subito. In questo video vi mostrerò due metodi. Uno più semplice e l'altro è quello alternativo se non vi dovesse funzionare il primo che diciamo è un po' più lungo. Direi di partire proprio dal primo e innanzitutto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare su Start e cliccare sull'icona delle impostazioni. Ora per prima cosa dobbiamo andare a controllare di aver installato l'ultimo aggiornamento di Windows. Infatti questa impostazione è stata introdotta con gli ultimi aggiornamenti. In questo caso vedete li ho già installati. Voi se non siete sicuri basta che cliccate qua su Verifica disponibilità aggiornamenti. Una volta aggiornato il vostro pc potete tornare indietro e andare qua su Sistema. Ora dovreste già ritrovarvi nella sezione dello schermo quindi andiamo qua in basso dove troviamo impostazioni di ridimensionamento avanzate. Ci clicchiamo sopra e tutto quello che dobbiamo fare è attivare questa spunta. In questo modo da ora in poi tutti i programmi che aprirete saranno alla risoluzione corretta e non avranno più quell'effetto sfocato. Come vi ho già detto potrebbe capitare che per alcuni programmi non vi funzioni questa procedura. Quindi direi di andare a vedere anche la seconda alternativa. Questo metodo diciamo dovete farlo individualmente per ogni programma. Perché mettiamo caso che a me non vada Google Chrome che si veda sfocato. Cosa dovete fare? Dovete trovare la sua icona. Vi consiglio di prendere quella che trovate direttamente sul desktop. Se no potete usare anche i collegamenti su Start. Vi basta fare clic con il tasto destro, andare su Altro e cliccare su Apri percorso file per trovare il suo collegamento. In ogni caso questo qua è già sul desktop quindi andiamo a farci clic con il tasto destro e andiamo su Proprietà. Ora ci interessa la sezione compatibilità che troviamo qua in alto. Ci clicchiamo sopra e dobbiamo andare su Modifica impostazioni DPI elevati. Eccole qua. Quindi adesso andiamo ad attivare quest'opzione. Clicchiamo su OK. Di nuovo su OK per rendere effettive le nostre modifiche. Ed in questo modo dovreste aver risolto definitivamente il vostro problema. Ovviamente questa procedura dovete ripeterla ogni volta per ogni programma che ha questo problema. Bene ma detto questo per questo video era tutto. Spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Noi ci rivediamo alla prossima e ciao a tutti! Noi ci rivediamo alla prossima e ci rivediamo alla prossima.